Sei venuto a cimentarti nel nostro torneo mozzafiato? Le migliori canne di Albion si sfideranno in queste acque in una lotta all'ultimo pesce. E io sarò il giudice. Ovviamente nessuno è in grado di prendere dei pesci più grossi dei miei, ma voglio lasciare spazio ai giovani come te. Portami i pesce e ti consegnerò dei premi, ma solo se li riterrò abbastanza grossi. Se hai bisogno di altre informazioni, consulta quel cartello laggiù. Buona fortuna! Ah, sei tornato! Mi hai portato qualche altra creatura acquatica da pesare? Ho paura che non ti basterà per battere gli altri pescatori. Voglio darti un consiglio. Prova a pescare quando piove e vedrai i pesci grossi avvicinarsi alla superficie. Oggi il tuo cesto è bello pieno, ragazzo. Che ne dici se ci diamo un'occhiata? Che il divino pesce mi strafulmini! Questo è un vero mostro! Ti sei aggiudicato il primo premio! Ti sei aggiudicato anche il secondo e il terzo premio! Ecco, un cappello, una canna e una chiave d'argento! Davvero un bel bottino!